Rosso Fiorentino, deposizione di Volterra, 1521, commento critico a cura di Giancarlo Bonomo, voce narrante Raffaella Ferrari una concitata e coinvolgente messa in scena teatrale con una sceneggiatura a tema sacro è questa la prima impressione che suscita la celeberrima deposizione di Giovanni Battista di Jacopo di Gasparre meglio conosciuto come il Rosso Fiorentino, protagonista eccentrico ed eclettico della spettacolosa stagione del manierismo toscano in quest'opera, firmata e datata a 1521, il Rosso, in veste di regista esigente e fantasioso inventa e dirige a suo modo l'episodio evangelico sovrapponendo situazioni diverse nell'unico palcoscenico in cui si consuma la tragedia a dominare l'opera sulla sommità della croce è la scomposta figura in pericoloso equilibrio di Nicodemo in abito vermiglio e copricapo azzurro nel ruolo di grottesco capomastro che riprende un operaio che, a sua volta, pare goffamente giustificarsi della maldestra manovra operativa mentre gli altri assistono attonniti al misfatto più preoccupati di non cadere rovinosamente al suolo la parte superiore della pala è dunque l'aspetto pratico, diremmo profano, del tema sacro ed è qui che il rosso pare concentrare la sua attenzione trasformando delle mere comparse in attori protagonisti il Cristo, con il capo reclinato al cielo, presenta già il sinistro colorito della morte mentre viene pietosamente abbracciato da un altro assistente lo spazio del dolore è riservato ai piedi dell'imponente croce qui troviamo un piccolo gruppo di piedonne paludate in abiti vivaci ed eleganti sono le marie che la luce incidente rende simili a sculture viventi nella definizione netta e spigolosa dei volti e dei panneggi la solennità del momento è spezzata dall'improvvisa eruzione della maddalena composta con acconciatura aristocratica e veste scarlatta che crolla in ginocchio dinanzi alla vergine ormai già priva di conoscenza col volto carezzato da una tenera ombra l'assistente più giovane che regge la pesante scala compresa la drammaticità del momento rivolge uno sguardo compassionevole alle donne quale commovente segno di umana partecipazione Giovanni Evangelista anche gli elegantissimo in abito azzurro e manto color avorio in preda ad un devastante travaglio emozionale si allontana comprendosi il volto Rosso Fiorentino con questo capolavoro diventato nel tempo un'opera iconica non ha inteso di sacrare l'episodio del Cristo quanto restituirci un'immagine inedita più vicina all'umana comprensione dove il pragmatismo terreno si coniuga con la verità divina per questo artista tutto fa parte della vita ogni scena è importante ed ogni personaggio ha un ruolo che riveste con ferma dignità gli umili operai commissanti tutti sullo stesso piano di considerazione e forse dietro lo spettacolo di azione e colore creato dal rosso in cui trova il tempo ed il pretesto per curare persino gli abiti dei protagonisti si cela proprio questo paradigma di uguaglianza così vicino ma così lontano dalla piena comprensione umana l'insegnamento del Cristo uomo fra gli uomini prima ancora di essere riconosciuto come figlio di Dio che ha vissuto la disperata solitudine del dolore come tutti noi come tutti i nostri spettacolo di Dio